allora gasem buongiorno buongiorno a tutti cari amici di cioccomo iniziamo dal cielo però però una sorpresa c'è una sorpresa c'è non piove guardate guardate il pavimento di piazza cavur però devo dire che c'è vedo una una piazza di acqua bella cosa è successo qua sul lungo lago c'è un lungo lago un pochino allagato nella corsia non lo so questo mi sorprende comunque buongiorno a tutti amici e ben ritrovati oggi la sorpresa di oggi è che non piove e questo è già qualcosa ma c'è un vento fastidiosissimo fastidiosissimo abbiamo anche la nostra amica sandra che oggi ci deve portare le filastrocche ciao sandra buongiorno aspetta che quando diventa verde attraversiamo e andiamo di là e devo dire guarda che c'è questa corsia qua del lungo lago che è completamente allagata infatti ci sono gli agenti della polizia locale che stanno mettendo anche perché effettivamente è tutta allagata ma comunque fa freddo mamma mia se fa freddo anche oggi ragazzi porca miseria e sembra tipico estate sì tipicissima allora sandra però almeno non piove non piove abbiamo c'è un cielo un po così coperto è coperto sono fermati i vigili perché guarda c'è questa corsia qui che è completamente allagata non si capisce o un tombino probabilmente che vedi che che non tiene ecco allora attraversiamo ma attenzione che qui c'è l'acqua dobbiamo passare di qui e vi facciamo il saluto da qui oggi con anche la danza la danza c'è la danza adesso ma settimana scorsa ha funzionato la faccia la ripeti vieni qua vieni qua dato vi facciamo vedere orca miseria si è cresciuto orca miseria è cresciuto ancora di più di ieri è per la miseria si è cresciuto ancora il lago siamo insomma a livelli quasi di guardia va bene allora aspetta un po di saluti marilena cosimo simona da noi c'è la nebbia guarda che ieri è vero anch'io ieri mattina ho visto anch'io la nebbia la nebbia adesso non c'è però signori è ancora un po incerto poi sergio virna enrico cosimo per fortuna ci sono le paratie cosimo non fare non fare nello spiritoso ma Mauro e Luisella nel senso che le paratie vengono messe qua dentro ma devono essere ancora collocate qua dentro buongiorno Rocco e Cristina buongiorno a Pognana ci siamo svegliati così anche loro lì a Pognana e Fernanda Valeria Tony Ornella Anna buongiorno un caro saluto c'è anche Rocco che ci saluta buongiorno Rocco marilena cosimo simona silvana Giuliana Ines Stefano Marina Graziella sei gradi in Valdintelvi e no ma ieri sera nevicava su a Cervinia facciamo vedere la nevicata della madonna che giornata che giornata ragazzi e Cinzia buongiorno che ci saluta Paola la nostra amica di Ferrara ciao Paola buongiorno Italo buongiorno a te Simona Agnese Cinzia sei gradi in Valdintelvi c'è anche Rosina che ci saluta Adriana Alessandro Elisabetta e Damiano prego vado sperando che porti bene eh allora prima di con la filastracca poi facciamo la danza come vuoi tu io va bene perché roba vai ho visto una palla luminosa mi son chiesto cos'era quella cosa tutta tonda e luminosa brillava sopra ogni cosa ah sei sole per dindirindina hai fatto giusto una capatina oggi pure venerdì 17 facciamo le corna che la pioggia è vero è venerdì 17 oggi c'hai ragione ma ste nuvole non vanno più via faccio show show e le mando via ma questo tempo non contento stamattina soffia pure il vento insomma il tempo e il sole fanno proprio come vuole Silvana e poi c'è il nostro simpaticissimo Paolo Alberto che dice una leggenda del passato racconta che in primavera una volta c'era anche il sole a volte ciao Monica buongiorno a te da griante Eudocchia Gisella Stefano Raffaella Agnese se il tempo mantiene a ferragosto faccio l'albero è bene Orazio buongiorno Rita Dolores un saluto alla simpatica Sandra Tania da Dongo Rosa Andrea mi sa che è lei che fa piovere dice no dai facciamo un danzo del sole allora Lorenza e Orazio buongiorno ti salutano in tanti Angela Dolores Rita Orazio Monica Paolo Alberto che appunto simpaticamente dice ovviamente è una battuta poi Silvana Miriam Martina Enrico Angela Jack buongiorno 9 gradi a Lipomo ma almeno non piove è autunno 10 ho visto 10 gradi fa freddo veramente ragazzi credeteci che è veramente una giornata freddissima questa mattina tra l'altro Sandra anche con il vento che buongiorno che ispira dal capocantiere delle paratie buongiorno è l'uomo che ci vede sempre spessissimo e guarda come va spedito allora ciao Silvana Mario Cecilia Sandra portaci un po' di sole ci dice Cecilia Giancarla Graziella Margherita dalla Sardegna Paolo Alberto grazie per le simpaticissime filastrocche vuoi fare la danza? facciamo la danza? proviamo? eh prova non vuoi? si si fai fai la danza non lo so ti riprendo facciamo la danza? facciamo la danza? Carlo Alberto buongiorno Silvana è arrivata la Sandra porta il sole dice Silvana Maria Luisa poi ancora Sandra dalla Germania da Mainz la mia nipotina Emi compie 5 anni Paola di Ferrara Paola buongiorno un saluto alla tua nipotina auguri a Emi 5 anni che bello Valeria Angela dalla Germania Sandra mette sempre allegria e allora facciamo sì facciamo questa danza? Caterina buongiorno Stefano che dice e la la vai con la danza? oh calma vai con la danza vai con la danza dai dai la danza del sole con il saltello esce il sole io non la conosco io non la conosco non so chi è con le mani sulla testa esce il sole a fare festa faccio una giravolta chissà se il sole qui mi ascolta in giravolta ancora una esce il sole per fortuna speriamo facciamo le torna oggi è venerdì 17 dai l'ultimo filastrocca se ce l'hai al volo così salutiamo i tanti amici che sono contenti che sei tornata a salutarci il venerdì volevamo portarti già ieri ma ieri c'era un po' di emergenza sento tanto la meteorina ieri era difficile vai vai con la danza dai Daniela Elisabetta Orazio Katia Rosina Sandra segui il capocantiere dice il capocantiere è andato la la in fondo sandra non è la e la e la e la e la e la in fondo e la in fondo il capocantiere comunque c'è questo allagamento che boh non si capisce vabbè ciao da rita ciao da daniela silvana sergio andrea dice che porta bene un altro andrea invece detto no mi sa che colpa tua che scherzava vai sandra allora questo tempo turbolento cambia umore in un momento se c'è il sole tanto secco solo acqua e quel che cerco se piove tanto ma proprio tanto già del sole ho il rimpianto ma il tempo sai fai come gli va sole e pioggia come vorrà allora dal terminus ci scrive anche claudia è qua proprio vicino a noi il terminus qui siamo affacciati su piazza cavur è quello quello lì poi c'è anzi no scusa questo è il metropole swiss è più avanti e più avanti il terminus è più avanti poi c'è il barchetta c'è il vista c'è il touring c'è il monti li abbiamo citati tutti non si incavola nessuno allora salutiamo anche teresa il tempo sta dando una piccola tregua allora noi l'abbiamo messo con sandra abbiamo portato l'abbiamo adesso l'abbiamo fatta il freddo l'abbiamo preso mamma mia che freddo ragazzi è come inverno credetci non stiamo scherzando è proprio come inverno oggi se dovete uscire di casa sandra dovevo mettere il piumino ma il piumino fa quello d'inverno è veramente poi magari dopo passa però poi dopo magari cresce va bene ciao ragazzi vi salutiamo tutti meo lara patrizia lucia francesca che dice fa freddo ma stamattina la simpatia di sandra ciao luisa ciao maria dice maria dice ancora un po di danza e fallo al volo al volo io non la conosco vado via non la conosco ciao sandra grazie no allora speriamo chissà forse sandra vi ha portato il sole ci saluta luigi antonia che dice mi sa che arriva antonia dice una battuta bellissima mi sa che arriva all'era glaciale ciao lydia buongiorno a te anche questa signora qua è pazza secondo me è pazza e scritte riaccia come fa andare in giro con con il body con sei gra sette gradi io non lo so fa un freddo pazzesco e questa corre a me che forse corre però è capito però fa freddo ciao ragazzi buongiorno a tutti buongiorno buongiorno